ragazzi san clemente san clemente my special car 2008 polisportiva go-kart frandelle e poi eccola appena verniciata ragazzi non so se vi rendete nuovo sparco volante marmette della momo cilindrata turbodiesel 2.0 2.0 sh concessionaria cilindrata 140 cerchioni nuovi 27 pollici sedile rinforzato di carta alettone batman alla batman musetto della ferrari musetto ferrari musetto della ferrari non lo so dove siamo acceleratore cilindrata 140 0 a 100 in 3 secondi alettone della miligone della smignone 3 secondi 20 ragazzi aspetta adesso dobbiamo cilindrata 140 guardatela non so ragazzi guardate che roba ragazzi nuove nuove di cartone dobbiamo iniziare a testarla guarda prendi le freccette prendi le freccette si dai il gocan andrà bene la moto andrà bene adesso dobbiamo testare davanti del post si dai sono contento dai vai vai te il gocan andrà bene a prudenza sempre ok speriamo che vada bene testare questo ferrico sarà una grande emozione speriamo che vada tutto bene di non schiantarci appena musetto della ferrari appena comprato ok beh però no scusate la verniciatura dei cerchioni è stata fatta con zincante a freddo per ferro e acciaio che cazzo di gomme sono di gomma a base di polvere di zinco ragazzi viti viti volante della sparco non so viti super arugginite da candosta sac non vi facciamo vedere cilindro roba da matti roba ragazzi da qua da san clemente marciano di romagna sant'arcangelo rimini pesaro e tutto da la frendella prudenza per senso e giacomo